a me che sono le elezioni sono il 14 si d'oltre poggi che che sei candidato francesco de rubo ah è quello lì che c'è il figlio no quello è fiorentino no che c'è la moglie nera si ma il presidente cosa fa non è il presidente è il rappresentante di gag questo è il gruppo arbitri giudici della lombardia ah quindi di tutta la lombardia si ma scusa ma quindi voi siete solo voi quelli della lombardia beh dici poco sono due come rappresentanti si poi ci sono i vice rappresentanti ma gli appresentanti cosa fanno? organizzano l'attività dei degli arbitri giudici e poi fa le assegnazioni dei servizi bravo come se fosse l'allenatore bravo come fosse l'allenatore è l'allenatore degli arbitri giudici ho scritto posti se non c'è solo questo e questo è lì che mamma tu mi fai tipo una spilla? si grazie 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 grazie